Il presidente come al solito ci dà una grossa carica e quindi cerchiamo più che altro di non farlo arrabbiare perché comunque lui ci ha sempre trattato bene e si merita una squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto poi comunque i risultati non è che possono sempre arrivare ma l'impegno non deve mancare mai. Rilassamento penso non sia la parola giusta, penso più che altro che l'anno scorso eravamo la sorpresa e quindi le squadre non si aspettavano un Teramo così in grado di distruggere il campionato come alla fine è stato. Quest'anno si aspetta il Teramo che l'anno scorso ha fatto tanto bene e quindi vivono le partite in maniera diversa. Come si è visto la Rezzo è venuto qui tutti a difendere il risultato nonostante avessero l'uomo in più. L'Aquila praticamente ha fatto la stessa partita perché occasioni create è vero che noi non abbiamo creato tantissimo però comunque nel primo tempo abbiamo avuto il 70% di possesso palla che quindi vuol dire che la partita la provi a fare dopo le cose non riescono non riescono però comunque la partita la volevi fare tu non è la squadra avversaria che fa la partita. Al contrario degli altri anni dove giocavi contro il Teramo e la squadra di casa doveva fare risultato perché non arrivava la squadra abblasonata mentre quest'anno ci vedono in un'altra maniera. Speriamo che la Romagna ci continui a portare bene quindi andiamo a Rivini fatto col di testa ma soprattutto era importante sfatare il tabù trasferte a Sant'Arcangelo ci siamo riusciti però adesso dobbiamo ricominciare da dove avevamo lasciato prima dell'Aquila dalle due vittorie e dai due pareggi.